Ok, praticamente ho finito di editarle la prima parte e quindi ho pensato, dai, c'è spazio anche per un altro disco, quindi è quello che andremo a fare. Ok, allora, di qua, ho tutto a parte i pedini, vabbè, adesso andiamo a fare questo, disco strand, ok, allora, torce, allora, ok, ci sono i ragni velenosi, sì, quello che non riesco neanche a colpirli. Stai fermo, no, toccarmi, don't touch, ok, allora, comunque se parlo così perché mi sono appena alzato, quindi sono molto assurdito, dove sei? Basta, guardatelo lì che si nasconde, ok, andiamo avanti, non vedo assolutamente niente, ok, ok, esplodi. Non ci credo, ah, lì c'è una cesta, allora. Ok, vediamo cosa c'è qua, mena d'oro, piccone, sharpness and breaking, ok, eccolo dove, ok, ok, no, ho sbagliato, 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 ok, allora, pensiamo come fare. Perché? Calma, sto resistendo con due cuori, recupera vita a Cristo Santo, ma quante gente c'è? non ci posso credere, non ci posso credere, non ci posso credere. è un incubo, è un incubo, ci sono troppi mob. E troppi spawner, immagino come sia, come siano gli ultimi. che è difficilissimo colpire i ragni delle caverne, cioè sono piccoli e veloci. Ok, ho fatto un po' di casino, però non troppo. Allora, vediamo, adesso, che casino combinato, se riesco ad andare là, di nuovo. ora, non ancora, ho trovato la line, secondo me è qua, cioè, se non è qua, io non so, ok, qua c'è una cesta. Pane, giusto, giusto, buono. Qua c'era qualcosa, no, tu devi stare altamente lontano, stami. Ma perché? Quanta vita? Quanta vita aveva? Allora, è entrato tipo un sacco di colpi. Cioè, allora, torniamo su. Ci sto mettendo veramente un casino per fare questo. No, altri per anni così, no. Dove sono i miei miei creeper? Ma quanti ce ne sono? Vi ricordo che è in easy, c'è lì giù, cadi giù Guarda, no, sono appena accorto che è quasi finito lo scudo Ho finito lo scudo, molto Molto, molto male, dai, dai, ok Dai, ok Zona, diciamo, pulita Ok, non vedo altri spawner Quindi possiamo andare giù Ah Ok, questa qua zona Di inizio, quindi Cosa ci vuole È impossibile questa Già i piccini e quelli sono forti Poi ci metti altre due Accette In mano, cioè sono Imbattibili così Ok Basta Non ce la farò mai No, ma ti odio tantissimo Ma ti odio tantissimo E quello che cacchio è Ma questo che cacchio è E robiamo questo Robiamo anche questo No, me ne ha spawnato uno Ok Questo 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 Ok Aspettiamo che recuperiamo vita Adesso ci metterò Sicuramente un sacco di tempo No No, ancora tu Ok Ok Tu Sei scarso Bene Ok Mi sento che ci siamo quasi Lo sento Ok Ok Ora tu vai giù Basta 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 in tutto questo mezz'ora non ho ancora trovato la lana ma eccola eccola qua ok l'ana trovato c'è disco trovato alleluia ok allora strade ok che molto bene sono distrutto dopo 40 minuti che ci provo con questo video per questo video è tutto oggi sentiamo la prossima è bella ciao